E' partita ufficialmente la missione playoff dell'Avellino e i lupi saranno impegnati domani sera a Libero liberati di Terni per cercare di coltivare un sogno, un percorso di avvicinamento agli spareggi tutt'altro che semplice, quello dei bianco-verdi che hanno risolto solo al fotofinish la grana dei contratti. Sono andate a buon fine le trattative per gli accordi con Tonti di Paolo Antonio Albadori Alfageme fino al 31 agosto, ma inizialmente l'argentino non aveva trovato l'intesa, tanto da non salire sul pullman e volere abbandonare il partenio Lombardi a bordo della sua auto, intesa raggiunta successivamente grazie alla mediazione del suo agente Andrea Pasini. Capuana che domani sarà privo di Dini, Silvestri e Charpentier si affiderà al classico e collaudato 3-5-2, con Tonti in porta, Lianes, Laez e Bertolo in difesa, Seljak e Parisi su di esterni, mentre al centro ci saranno De Marco, Garofalo, Di Paolo Antonio che con Morero e Zullo nel massimo della condizione partirà dalla panchina e Di Zillo. Davanti Mikoski ed Albadoro, i lupi che già cinque volte sono stati corsari a Terni sperano in un nuovo successo.